Ruotiamo questo triangolo di 180 gradi in senso orario intorno al centro di rotazione O. Vediamo che i vertici corrispondenti dei due triangoli sono allineati con il centro di rotazione O, che è anche il punto medio dei segmenti A-A', B-B' e C-C'. Osserviamo anche che applicando al triangolo iniziale una rotazione di 180 gradi nel senso inverso, otteniamo lo stesso triangolo di prima. Questo tipo di rotazione si chiama simmetria centrale. Una simmetria centrale è caratterizzata da un solo elemento, il centro.